Si comincia con il premio Apalaci ed è l'ultimo vincitore dello storico premio Rinascita che poi è stato riesumato tre anni fa e vabbè non ha il lustro forse dello storico premio Rinascita nato nel 1948 e vinto da Mike Tined ma comunque bene ricordare insomma le nostre tradizioni quindi bello rivedere il premio Rinascita con una serie di vincitori di questa classica romana nel corso della giornata i premi intitolati insomma Si comincia con una prova per due anni, sono in 5 al Via, non corre il numero 5 Voxa Photo SM Verde Milonga al numero 1 Enrico Bellei al 2 Virtual OP Antonio Di Nardo 3 Via col Vento Toro, Warner Martellini, 4 Vento delle Selve, Gasparillo Verde, 6 Vogan, B Mario, Minopoli, Junior In testa ci va praticamente senza spesa Verde Milonga, seguita da Virtual OP e Via col Vento Toro Vogan B risale subito all'esterno, chiude il drappello Vento delle Selve, all'imbocco la prima curva Verde Milonga salda battistrada, 200 iniziali in 15 Enrico Bellei cerca di tenere tranquilla la propria allieva, viaggia un po' spalle indietro la segue Virtual OP terza posizione alla corda per Vogan B, 34 per i primi 400 metri poi via col Vento Toro e infine Vento delle Selve valli che stanno per completare i primi 600 metri in fila indiana con Verde Milonga che passa il paletto in 46 e un baffo all'imbocco della penultima curva Verde Milonga su Virtual OP e Vogan B poi via col Vento e Vento delle Selve il passaggio a metà gara per Verde Milonga in 1, 2 e mezzo sulla retta opposta alle tribune non cambia nulla sempre Verde Milonga a scandire il ritmo Virtual OP di rincalzo davanti a Vogan B così al primo chilometro sul piede dell'1, 17 e 6 sul mio cronometro alle spalle di Verde Milonga sempre Virtual OP e Vogan B poi via col Vento Toro mentre perde contatto Vento delle Selve in buco della curva conclusiva Verde Milonga in vantaggio che sta aumentando la cadenza Virtual OP la segue lungo la corda davanti a Vogan B quasi completata la curva conclusiva si prepara per la volata finale con Verde Milonga in vantaggio su Virtual OP Vogan B che ha perso qualche battuta retta di arrivo con Verde Milonga al comando filata da Virtual OP 14,8 l'ultimo paletto di Verde Milonga che allunga ancora Verde Milonga Virtual che è richiesto Vogan B che prova a difendere almeno il terzo da Via Colvento Toro sul palo Verde Milonga facile alla meta su Virtual OP il terzo per Vogan B che salva una lunghezza su Via Colvento Toro 2,2,4 il totale la chiusa in meno di 45 45 è scarso domina da un capo all'altro Verde Milonga con assoluta facilità davanti a Virtual OP e Vogan B 2,67 la quota al totalizzatore training di Gennaro Casillo i colori sono della scuderia Altea Verde Milonga vince il premio a Palaci Grazie.